E' martedì 9 aprile, sono le 7 del mattino, buongiorno, benvenuti all'edicola. Sono stata abbastanza indecisa su quale notizia proporvi per prima stamane, perché le aperture dei quotidiani sono abbastanza diverse l'una dall'altra. Per esempio il Corriere della Sera, ma anche la stampa, prediligono la questione economica del DEF che verrà presentato oggi. Ma ci sono altri quotidiani, e sono molti, che invece aprono con le notizie relative al Partito Democratico e ai suoi travagli legati al rapporto con il Movimento 5 Stelle. E poi c'è un gruppo decisamente consistente di quotidiani che invece apre con il documento che è stato presentato in Vaticano ieri. E non sono solo ovviamente l'osservatore romano o avvenire, cosa che insomma poteva essere considerata anche abbastanza scontata, ma altri quotidiani come Repubblica o Libero. E allora ho scelto di aprire proprio con questo l'osservatore romano. Come vedete in realtà ha un'apertura doppia, perché utilizza come sempre, fa bellissime fotografie, e in questo caso, è un bello ovviamente fra virgolette, si riferisce alle macerie di Caniunis nella striscia di Gaza. Il titolo appunto è Ritorno tra le macerie, ma poi nell'articolo a fianco Andrea Tornielli fa l'elenco appunto delle gravi violazioni della dignità umana, parlando di questo documento, il del di Castero per la dottrina della fede, dignitas infinita, che elenca punto per punto quelli che sono i passi considerati per l'appunto meritevoli di attenzione da parte del Vaticano. Anche avvenire, ripeto però questo era abbastanza scontato, lo fa, dignità soprattutto, questo è il titolo che sceglie, e precisa come in realtà si tratti del frutto di un lavoro di cinque anni. E c'è anche un virgolettato del cardinale Fernandez, che lo ha presentato, dicendo è di tutte le persone, la dignità ovviamente, e nessun peccato umano può cancellarla. Aborto, tratta, stiamo parlando di migranti, eutanasia, tra i casi di umanità violata. L'omosessualità, mai un reato. C'è questa sottolineatura, perché fra l'altro, fra, diciamo così, l'elenco delle gravi violazioni della dignità umana, è stata inserita non solo la maternità surrogata, che è poi quella che probabilmente, diciamo così, ha dato il via alla scelta di titolare, anche da altri quotidiani, almeno a leggerne gli articoli, ma ci sono altri aspetti. Depenalizzazione dell'omosessualità nei paesi in cui ancora è considerata un reato, scrive per esempio Avvenire, inaccettabilità del cambio di sesso, inesistenza di un diritto al figlio. Questi alcuni dei temi ieri, sottolineati alla presentazione della dichiarazione del di Castero per la dottrina della fede, dignitas infinita, che riafferma la dignità dell'uomo, oltre ogni circostanza, al punto che neanche il peccato originale la cancella in alcun modo. E ci sono poi un paio di riflessioni interessanti, una firmata da Riccardo Maccioni e l'altra da Laura Palazzani, l'uomo è degno a prescindere, scrive ad esempio Laura Palazzani, precisando, La dichiarazione dignitas infinita, circa la dignità umana del di Castero per la dottrina della fede, nasce da un'urgenza che la Chiesa avverte, l'urgenza di rendere tutti noi consapevoli che per quanto si registri un consenso piuttosto generale sull'espressione dignità umana, tale espressione si presta a possibili equivoci. Nel documento, specifica ancora a venire, si richiama esplicitamente appunto più volte la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 48 dell'Assemblea Generale delle Nazioni, dove sin dall'articolo 1 si afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Ma cosa significa propriamente dignità umana? La dichiarazione del di Castero parla di dignità infinita, intendendo con questo oggettivo che la dignità è esente da limiti quantitativi nel tempo e nello spazio precisa ancora a venire, che poi conclude a pagina 17 la sua riflessione con una precisazione importante. La dichiarazione, scrive ancora appunto Laura Palazzani, ci stimola ad aprire gli occhi, a non attenuare la coscienza, ma a identificare le violazioni, a porre attenzione anche a quelle meno evidenti, più silenziose, nascoste dietro linguaggi ambigui o a ideologie subdole, per comprendere che ogni violazione della dignità è una sconfitta per l'uomo e per l'umanità. E appunto la lista, come vi dicevo, comprende davvero tanti esempi che riguardano la guerra, le devastazioni, le distruzioni, il travaglio dei migranti. Questo aspetto dei migranti è molto sottolineato su avvenire, un po' meno in realtà. Lo troviamo su altri quotidiani. Vi faccio vedere adesso, per esempio, vi dicevo la Repubblica, eccolo qua, vedete, sceglie proprio di metterlo in prima pagina, con una titolazione molto simile a quella che ha scelto lo stesso osservatore romano. Da una parte le foto di Caniunis, dall'altra, eccolo qua, madri surrogate da vietare il no del Papa. È assolutamente contraria. Repubblica prende una posizione precisa da questo punto di vista, tant'è che parla di una linea dura del Vaticano e riporta, fra l'altro, la testimonianza di Andrea Rubera, portavoce dell'associazione cristiana LGBT, Cammini di Speranza, dice, è un contentino ai conservatori. Io, gay e cattolico, mi sento offeso, trovo svilente sentir dire che chi ricorre alla gestazione per altri considera i bambini degli oggetti. Questa è l'impostazione che troviamo sulla Repubblica, che poi ancora ha un altro intervento, invece, più avanti, nel quale si, diciamo così, mettono insieme due elementi a cura di Arianna Farinelli, ovvero, scrive Arianna Farinelli, che cos'hanno in comune le ultime posizioni di Trump sull'aborto e quelle della Chiesa Cattolica sulla teoria gender, il cambio di sesso e la maternità surrogata, dispiace dirlo, ma ciò che le accomuna è la volontà di limitare ulteriormente i diritti e controllare ancora di più i corpi delle persone, soprattutto delle donne. Questo è, diciamo così, quello che scrive Repubblica, ma come vi dicevo, troviamo altre titolazioni. Una, per esempio, eccola qua, è quella di Libero, addirittura a tutta pagina, utero in affitto e gender, il Papa bastona il Partito Democratico. È, diciamo così, un carpiato non niente male quello di Libero di attribuire direttamente al Partito Democratico questi temi, anche perché, fra l'altro, anche all'interno del Partito Democratico, per esempio, sulla gestazione per altri o utero in affitto, c'è un dibattito molto aperto e non certo tutto il partito è schierato a favore, ma, detto questo, la pagina di Libero è interessante perché in realtà poi ci parla anche del caso Careggi, ma soprattutto perché c'è questo intervento di Antonio Socci che dice è stato smentito chi voleva mettere un'etichetta politica a vergoglio, quindi in qualche modo sembra anche contraddire, diciamo così, un po' il titolo di apertura, ma la cosa interessante invece, appunto, quella che scrive Socci è che l'inno alla dignità umana parla al mondo, smentito chi vuole strumentalizzare Francesco facendo un taglia e cuci del pontificato, i diritti inalienabili della persona non sono alla merce degli stati, in realtà non tutti la pensano così, però prima di farvi vedere anche altre posizioni vi segnalo quello che troviamo sia sul giornale che sul Corriere della Sera, dove per cui vedrete che anche insomma nelle posizioni fra stampa progressista e stampa cosiddetta più vicina alla maggioranza le posizioni sono abbastanza sfumate perché la posizione del giornale per esempio con un interessantissimo fondo di Michele Brambilla fa notare un aspetto benché il titolo che gli sia stato apposto sulla prima pagina sia questo utero in affitto d'eutanasia la chiesa torna a fare la chiesa e non c'è dubbio ma se poi andiamo appunto a leggere quello che è il commento come vi dicevo di Michele Brambilla la cosa interessante è questa la chiesa fa la chiesa ma i peccati non sono reati e scrive Brambilla le sensibilità cambiano quelle laiche pure quelle di fede quel che deve restare ferma è la distinzione fra stato e chiesa personalmente credo che l'aborto sia una tragedia che l'ideologia gender sia assurda che l'utero in affitto sia un mix fra egoismo e sfruttamento ma lo dico senza giudicare chi fa quelle scelte perché moralmente non mi ritengo superiore a nessuno anzi soprattutto lo dico convinto che la soluzione non può essere un processo penale e tantomeno la galera non è una sottolineatura da poco sapete perché nella richiesta di Papa Francesco c'era che appunto la maternità surrogata sia reato universale e quindi quella sottolineatura fatta sul giornale a uso probabilmente consumo anche al proprio interno di una maggioranza dove l'idea di rendere la maternità surrogata reato universale trova molti diciamo così molte persone favorevoli evidentemente è un segnale importante vi dicevo sul Corriere della Sera Emma Bonino quindi c'è questa liaison fra giornale e Corriere dice la stessa cosa il peccato non può diventare reato rispetto le posizioni della Chiesa e poi però lei parla in realtà dell'eutanasia che difende dice con ancora più convinzione sui femminicidi il Papa è molto netto è un fatto estremamente positivo e poi aggiunge condivido l'enfasi sacrosanta sulla dignità dei migranti che viene calpestata tutto questo non viene in realtà molto considerato da un quotidiano che è sempre stato particolarmente severo lo sapete con Papa Francesco che è la verità e anche sulla verità ovviamente troviamo richiamata in prima pagina questa notizia dove si parla del pendolo del Papa che colpisce gender aborto e GPA come vedete non si fa molta menzione dei migranti e addirittura Papa Francesco in questo caso così viene definito razzingeriano il Papa e Tuccio fanno i razzingeriani e condannano aborto e teoria gender e la diciamo così tesi della verità di Alessandro Ricco che firma questo pezzo è che in realtà l'argentino cerca di normalizzarsi l'argentino ovviamente è Papa Francesco chiamato così con poco rispetto ma insomma oppure blandisce l'opposizione nell'anno in cui il sinodo sulla sinodalità potrebbe introdurre riforme rivoluzionarie a ogni buon conto ieri Tuccio ha precisato Papa Francesco non parlerà mai ex catedra non programmerà dogmi ma ciò non significa che si possa non dargli retta un avviso ai Burke e ai Müller due cardinali vi abbiamo dato un documento ufficiale ora rientrate nei ranghi a Santa Marta sanno che dignità infinita non basta addomare l'incendio insomma sarebbe tutta solo sostanzialmente un'operazione politica per evitare quella che la verità ha adombrato più di una volta cioè l'ipotesi addirittura di uno scismo questa era la verità che come vedete però ha come foto in prima pagina invece quella di una suora che si sta comunicando ma in realtà è uno spot uno spot un po' blasfemo secondo Taluni una patatina al posto dell'ostia lo spot che offende i cattolici nei giorni dell'esaltazione del Ramadan se ne parla anche su avvenire con toni abbastanza indignati e a proposito di foto ve ne faccio vedere un'altra prima di andare in pubblicità perché ieri il Papa ha anche ricevuto una delegazione di parenti di ragazzi di persone che sono state rapite il 7 di ottobre in Israele questa foto l'unico giornale che la mette in prima pagina è il riformista sottolineando fra l'altro una frase detta da Francesco la voce del Papa si leva Hamas è il male di questo parleremo fra un attimo dopo la pubblicità adesso una piccola pausa 7 e 19 allora ricordate ieri invece avevamo aperto mettendo a confronto il titolo del messaggero con quello della stampa a proposito di questo annunciato ritiro delle truppe israeliane almeno dal sud di Israele ebbene c'erano anche valutazioni diverse su che cosa questo significasse oggi per esempio il manifesto parla esplicitamente di un ritiro mancino insomma lasciando intendere che dice ma che ritirata Netanyahu spegne subito le speranze nate dal ridispiegamento delle truppe di Israele che hanno lasciato il sud di Gaza mentre i palestinesi tornano nelle case da cui erano fuggiti e le trovano in briciole quindi insomma sarebbe solo una mossa tattica vi faccio vedere però anche l'apertura del Corriere della Sera perché c'è comunque un fronte quello dei negoziati che sembra andare avanti le notizie di questa mattina vi darà l'aggiornamento più avanti Fabio Angelicchio nel telegiornale parlano ancora di trattative in corso e allora ecco il Corriere della Sera a Gaza nuova proposta statunitense su tregua e ostaggi poi ci ricorda anche di questo raid che c'è stata a Zaporizia e torna l'allarme nucleare ma lo vedremo dopo a proposito invece di quello che sta succedendo ecco qua siamo a pagina 4 Davide Frattini sul Corriere della Sera parla appunto di questa spinta per sei settimane di stop che viene direttamente dagli Stati Uniti mentre per Raffa ci sarà o no questa invasione questo attacco scrive Frattini quel passo che manca alla vittoria totale misurato da Benjamin Netanyahu sarebbero gli ultimi chilometri quadrati di Gaza i cubi color cemento che formano la cittadina di Raffa striminzita verso l'Egitto il primo ministro ha così tanto insistito nelle scorse settimane sull'offensiva necessaria per sbaragliare un paio di battaglioni di Hamas se trionfare che adesso gli alleati di governo gliene chiedono conto perché i ministri messianici oltransisti come Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gwir non possono accettare che il ritiro delle truppe dal sud della striscia significhi la fine dell'offensiva via terra almeno nella forma massiccia con decine di migliaia di soldati chiedono una riunione d'emergenza del governo minacciano che altrimenti potrebbero non essercene altre sarebbero pronti ad andarsene e Netanyahu perderebbe la maggioranza dunque c'è evidentemente anche un problema politico da risolvere ma nel frattempo ritorno su Repubblica che come vi avevo mostrato prima ha questa apertura con le foto appunto del ritorno a Cagnunis Repubblica che oggi per una questione che dopo vedremo legata a una decisione del proprio direttore che ovviamente viene contestata dai redattori è senza firme dei giornalisti tranne alcune c'è quella di Sami al-Airami che abbiamo imparato a seguire in questi mesi di guerra per le sue cronache appunto di giornalista all'interno di Gaza e che quindi ci raccontava della sua vita all'interno di Gaza e è tornato a Cagnunis parla di una città fantasma ma dice alcune cose molto interessanti per esempio dice la guerra va avanti e un razzo è stato lanciato anche da miliziani palestinesi proprio da questa città provocando l'allarme nei villaggi israeliani oltre il confine Cagnunis è qua c'è una mappetta la potete vedere siamo comunque sempre nel sud della striscia continuo la lettura la notizia appunto del lancio di questo razzo ha lasciato stupiti e frustrati i palestinesi dopo tutta questa distruzione dopo tutte le migliaia di morti Hamas e la jihad islamica dovrebbero solo farsi da parte lasciare spazio all'ANP o comunque a un governo senza miliziani non possono avere un futuro nel governo perché hanno dimostrato di non avere un piano per la popolazione e di non sentirsi minimamente responsabili per la tragedia che vive Gaza la gente è stanca di Hamas che insieme a Israele ha distrutto la striscia non era frequente sicuramente nei mesi scorsi ancora meno tempo fa vedere dichiarazioni così importanti contro Hamas dall'interno di Gaza quindi non posso che segnalarvela questa così come infatti viene segnalato anche il grido di un ragazzo appena dodicenne che dice dà la colpa della distruzione non solo a Israele dice Hamas deve morire anche qui però si parla appunto di questa operazione mentre sempre su Repubblica trovate anche un'intervista al ministro degli esteri italiani Israel Katz che per l'appunto è a Roma in questi giorni messaggio all'Iran noi risponderemo a chiunque ci attacchi e però Katz dice anche non vogliamo stare a Gaza una volta sconfitta Hamas la comunità internazionale prenderà la responsabilità intervista che vi segnalo così come vi segnalo anche un'altra notizia che ci dà il foglio di Hamas contro Fatah insomma le due fazioni palestinesi che hanno ripreso a farsi la guerra e ovviamente centra la gestione del futuro di Gaza quindi qualche cosa si sta muovendo anche lì a proposito di quello che si muove vi dicevo c'è un tema economico che non possiamo assolutamente ignorare ce l'avevano come apertura nella prima pagina sia la stampa che il Corriere della Sera governo la prova dei conti scrive il Corriere della Sera che poi ci racconta come a pagina 2 fra pagina 2 e pagina 3 ci sia il macigno del super bonus che pesa appunto per 210 miliardi mentre ci sono novità per successioni e donazioni con Giorgetti che dice che non ci sarà però una manovra correttiva la stessa apertura la troviamo anche sulla stampa viene virgolettata quest'alta frase del ministro dell'economia che dice aspettiamo le regole europee in realtà però la stampa sceglie poi di intervistare l'economista Cottarelli che dice Meloni rinvia le cattive notizie manca una strategia taglia debito insomma secondo lui non è solo una mossa attendista per capire cosa ci chiederà davvero l'Europa ma dice non vogliono ammettere che le promesse che hanno fatto non saranno mantenute anche lui però dice non serve una manovra correttiva ma su spending review e crescita si fa troppo poco vedremo appunto oggi come sarà presentato questo def che peraltro non potrebbe essere diciamo così incompleto almeno ieri Cecilia Guerra che è stata vice ministro dell'economia lo faceva notare è una legge dello Stato ma insomma mentre per concludere parliamo del Partito Democratico e del suo Stato del Partito Democratico con una serie di articoli che adesso vado a prendervi a cominciare dal giornale scelgo il giornale perché in realtà c'è un articolo di Laura Cesaretti molto il formato velenoso al punto giusto perché insomma questa vicenda si presta anche a sarcasmi inevitabili e così scrive Laura Cesaretti Schlein ormai all'angolo impone il silenzio in tv ma il partito è in rivolta la segretaria vieta i suoi TG1 e TG2 rei di aver dato spazio alle inchieste i Dem però dicono è incapace di difenderci e pensa solo alla sua corrente siamo come l'aereo più pazzo del mondo appunto a proposito di questa divieto di Schlein raccoglie alcune voci Cesaretti dice nel PD sono furenti ma vi pare che in piena campagna elettorale ci facciamo del male da soli disertando i telegiornali più visti osserva un aspirante candidato ma non è solo questo come sapete c'è anche questa idea appunto di presentare un nuovo codice etico annuncia Giuliva scrive Cesaretti parlando di Schlein che se qualcuno vuole candidarsi deve presentarle la fedina penale che non tratterò più con le correnti sulle liste ossia che d'ora in poi deciderà solo lei chi piazzare e dove perché tutti gli altri dirigenti sono brutti sporchi e cattivi e appunto intanto decreta l'Aventino contro il Tg1 e il Tg2 questa cosa sta facendo ovviamente deflagrare tutta una serie di questioni riparto anche qui di nuovo dalla Repubblica con una serie di interviste a partire da però il candidato del Movimento 5 Stelle Michele Laforgia che dice sono stato io a Bari che dice sono stato io a dire stop alle primarie quindi non solo Conte e chiede ancora una volta che la sinistra faccia pulizia ovviamente questa cosa del codice etico però non viene presa molto bene ma eccolo qua vi faccio vedere anche l'operazione sorpasso questo è il titolo del tempo il golpe del PD con Conte per silurare Schlein perché ovviamente tutto questo viene anche letto come una preparazione diciamo così all'interno del partito a far fuori l'ennesima segretaria poi ovviamente c'è la cronaca si occupa di raccontarcela il fatto quotidiano in prima pagina parla della vicenda di Torino e dice sostiene Travaglio Piantedosi grazie al PD dei voti sporchi a Torino insomma la tesi di Travaglio è che in realtà Piantedosi il ministro dell'interno avrebbe dovuto commissariare più Torino che Bari dove sostiene Travaglio in realtà non ci sarebbe tanta mafia mentre invece a Torino parecchia detto questo sono le sette e mezzo ci sono notizie fresche che incombono Angelicchio e alla sua postazione gli do la parola Sì grazie Flavia proprio così allora alcune anticipazioni stanno uscendo molte dichiarazioni dalla conferenza stampa del ministro russo Lavrov che si trova in Cina e il suo omologo ministro degli esteri di Pechino sostanzialmente parla di un rafforzamento della cooperazione tra i due paesi e poi è stato arrestato ieri un cittadino Tajico all'aeroporto romano di Fiumicino è accusato di aver militato e quindi di far parte dell'organizzazione terroristica dell'Isis e poi andremo a vedere come è andata questa eclissi di sole perché milioni di persone ieri anzi decine di milioni di persone in Nord America in Messico in Canada sono stati con il naso all'insù a guardare proprio questo eclissi così spettacolare c'è Paolo sotto corona come sempre gli do la linea Paolo un'agenzia appena abbattuto Copernicus ci dice che quello appena passato è stato il marzo più caldo degli ultimi anni a te Paolo buongiorno grazie Fabio buongiorno passano come non notizie ormai perché l'anno scorso è stato l'anno più caldo mese per mese sono stati i mesi più caldi adesso tre mesi sono stati i tre mesi più caldi ormai come dire facciamo spallucce a questo invece dovrebbe essere ogni mese uno schiaffo in faccia perché ci dice che stiamo continuando sulla stessa strada che abbiamo percorso in questi ultimi anni ed è una strada sbagliata e come dire da un mese all'altro non ce ne accorgiamo ma alla lunga si cominciano a pagare queste cose quindi questo dovrebbe stimolarci ogni mese a dire facciamo qualcosa in più o qualcosa in meno nel senso che capite allora la situazione le nuvole di ieri sono passate senza grandi conseguenze come ci si aspettava questa che ieri era sulla Francia si è avvicinata vedete parte proprio dal sud proprio dall'Africa e raggiunge poi il mare del nord è abbastanza strutturata e gli effetti questa volta ci sono perché se andiamo a vedere la previsione per la giornata di oggi ecco il peggioramento sulle zone di nord-ovest e su buona parte del nord sulle zone alpine in alcune zone vedete fra Lombardia per esempio anche in pianura ci possono essere fenomeni intensi magari sono pochi ma possono essere intensi se no le piogge ci sono già passando in Toscana diventano molto deboli le nuvole ci sono vedete nord-est Toscana anche al centro-sud ma precipitazioni no domani questo questo maltempo si estende con fenomeni intensi anche in pianura a tutto il nord forse resta un po' al di fuori la parte proprio più orientale però o moderate o forti le precipitazioni ci sono ci sono piogge moderate in Sardegna su alcune zone del centro pochissime al sud quindi riguarda soprattutto il nord questo questo peggioramento arriviamo alla giornata di giovedì in cui tutto si attenua molto velocemente resta qualche traccia quindi l'idea è che verso la seconda parte della settimana del tempo migliora decisamente parleremo alle 8 delle temperature vediamo le minime di questa mattina ancora relativamente elevate ma direi quasi normali per la stagione anche se in qualche caso sono un po' coscese dove c'era il cielo sereno stato dei mari si vede anche qui da che parte arriva al maltempo dove sono mari agitati o molto agitati tutti quelli a ovest da lì arriva la perturbazione se volete ci vediamo intorno alle 7 55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio più tardi per la prima edizione che